Musica Salve a tutti ragazzi io sono Legomaster Oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video Oggi è uscito la stagione 5 come potete vedere sia dallo sfondo e sia da... Vabbè E come ogni season c'è il post battaglio ovviamente E quindi oggi lo andremo a vedere tutti insieme Siamo insieme a Domenico che saluto ovviamente Ciao Quindi direi di iniziare subito a vedere il pass battaglia Ovviamente prima di vedere il pass battaglia Non lo so Questo fa direttamente Quindi con il pass battaglia No, con questo Pass battaglia si è locato Ok, già mi ha dato il mandaloreano E le sfido ovviamente Ok Come prima... Cioè al secondo livello abbiamo L'ascesa del divaratore che non vi faccio sentire perché c'è il copyright Poi abbiamo questo standard Molto bello 100 V-Pack Uno spray Il viaggio Molto molto bello Schermata di caricamento Il pistolero Non è molto bella Il bambino Un'emozion Un'emozion Questo deltaplan è troppo Razor Crest Troppo bello Wow Poi abbiamo questo colpettura molto bella Schermata di caricamento anche questa bella Un back pack si un back pack Tutta la gravitazione nel dynamo Eh, bella Altri cento V-Back Un emoticon Sì Ok Una scia Bella E finalmente andiamo a questa skin Che è brutta perché è brutta, cioè a me non piace Nel camera Si chiama Riz Sempre a caccia di nuove aggiunte Per la sua parete dei trofei Non ci ho capito niente Boombox Il copyright E' vero, il copyright Ribelle Ok Ehm Il strumento di raccolta Martello da guerra Negli avri, credo che si dice Non lo so Altri cento V-Back Deltablano fa schifo Sì, il Deltablano fa schifo A me non piace Poi Un altro stendardo Ehm Questa fa schifo come l'altra Sì, lo stile di Di rizzo che fa schifo Ok Già vedo qualcosa di bello Che non vedo l'ora di arrivarci Una copertura Uno spray Ehm Un emoticon Un emoticon Il piccone Che tra l'altro Molto figo Molto molto bello Certo pure Vabbè Cento V-Back Ovviamente Una scia che Non mi piace Mancake Mancake Vabbè Mancake In italiano In inglesiato Questa l'elta plena Che è molto bello A me piace tantissimo A te No Ok vabbè Lasciamo stare Uno stendardo Ovviamente Non molto Ciroppo lesto Ciroppo Ma ciroppo lesto Vuoi dire ciroppo veloce Ok Strano Strano Non mi piace Questa roba Non mi piace Questo backpack Quale Tagli a colazione Mi fa schifo Schermata di caricamento Bella Cento V-Back Lo stile di Mancake Con i belli Belli Sì Belli Uno spray Unità Ok Non ho capito Una copertura Questa è bella Questa è bella Poi Cento V-Back E arriviamo a Maive Che non mi piace Non mi piace come schifo A me sì E' camarra Questo backpack Ci sta Ci sta Stendardo Del tappo Del tappo No figo Sì Del tappo è bello L'unica cosa bella Di questa Di questa schifo Guarda lascia Guarda lascia Bello Sì Bello Guarda 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 L'altro stile Che brutto Medusa Allora Cento V-Back Un altro stile Ok Un altro stile Del piccone Scherzo Di caricamento Bella Non hai capito Un altro Cosa Poi visualizza Ricompensa E' uno squalo Sì E' uno squalo Che brutto Io non lo usperò Neanch'io Cento V-Back Un altro stile Brutto 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 Poi Schia Caduta dell'anima Bella E' un'altra schermata Di caricamento Questa Non mi piace Però No ma Questa Un altro In che senso E' caperai Un delzaplano Un altro Bello Questo bello Sì Vabbè Stendardo Cento V-Back Cento V-Back Cento V-Back Quello di Tempesta Quello di Tempesta Quello solo che zè dietro Esce il violo Sì è vero Uh right Ok Condore bella Condore bellissimo Fatto con lo spirito Beh perché non mi piace tanto Brutto persona Emotico Beh Le Le Il piccone è bello I piccoli sono quelli che ci sono nello zaino Sì è vero Sì è vero Ah Poi abbiamo questa copertura bella Cento V-Back E cos'è questo coso? La trasformazione Ok C'è la skin Quella degli anime Sì Quest'altra musica che Penso che abbia il copyright Per forza Cioè Ho uno spray che non mi piace Deltaplono figo Deltaplono è bello Si 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 cavalca Sì È tipo quello là di microglicerina Cioè la skin Cento V-Back Oh no Ok Versaio acquisito Questa scena è bella La scena è bella Lexa Lexa Alexa però manca una Ok I piccoli guarda La copertura è bella Colas La copertura I labs Oh sì Cento V-Back Allora I piccoli sono bellissimi Poi schermata di caricamento No vabbè ma il backpack è troppo bello Cioè è tipo un Cento V-Back Cento V-Back Ok È quasi passato il pesante Eh sì quasi Schermata di caricamento Beppa che non mi piace Non mi piace Andiamo No Non mi piace Andiamo Poi 100 V-Back Menace Ok Sembra La faccia sembra un po' quella di Cristiano Ronaldo Va bene Con il coronavirus Guardagli la faccia Sì Eh vabbè Stendare Menace con la maschera Ok così Così con il leone Numero uno Va bene Numero uno Quello vuole un po' diciamo No No Non mi piace Non mi piace Sembra quello di Come si chiama Come si chiama quella skin Aspetta Vai avanti tu Sì Eh Vabbè abbiamo Cristiano Ronaldo sfidante Poi una copertura Bella Un altro stile Che non capisco Com'è È strano Va bene Poi vabbè abbiamo uno spray Sembra un po' Il Il tizio Romano Poi Quello che è più male Altri 100 V-Back Un altro stile Va bene Preparazione nel guerriere Vediamo se fa schifo Fa schifo Un altro stile No no È quello di Vabbè non so i nomi Come si chiama Il gladiatore Il film Il gladiatore Ah io non l'ho visto Non l'ho visto Eh se è un pisellino Eh no Allora Poi Vabbè uno standard Un emotico 100 V-Back Uh il babuino C'è Il babuino Il babi Yoda Il bambino No il babui Il babuino E poi Il mandaloriano Abbigliamento In che senso Ma cos'è anche? Non voglio Non voglio shoppare il bambino Cioè non voglio shoppare il bambino Scrivete la campanella per non perdervi nessun video Io lo ringrazio ancora Domenico per aver partecipato E In descrizione Ci sono i link di discord Se volete entrare ed essere salutati In un mio video E anche in descrizione c'è sempre il link Per fare il provino Per il team di fortnite Vi basterà andare Cliccare sul link di instagram Scrivergli un messaggio E poi vi contatteranno loro Quindi Questo video finisce qua Ciao Ciao Ciao